Come sappiamo dalla teoria, se cambiamo la regola di computazione, è sempre possibile trovare da qualche parte un ramo se c'è una refutazione che termina con la clausola vuota. Semplicemente quello che può succedere è che cambia l'albero di refutazione e addirittura abbiamo visto nelle lezioni precedenti che da finito potrebbe diventare infinito e comunque cambia la forma. Per esempio facciamo un po' di esperimenti. Noi non possiamo cambiare la regola di computazione, però quello che possiamo fare è qualcosa di assolutamente equivalente, cioè possiamo cambiare l'ordine dei goal all'interno delle clausole. Quindi per esempio anticipare, qui nella clausola ricorsiva, la chiamata ricorsiva, quindi cambiamo l'ordine dei goal, significa che sostanzialmente è come se lanciando il goal di prima avessimo utilizzato la regola di prendere sempre la toga più a destra piuttosto che quello di sinistra. Quindi cambierà qualcosa e vediamo, cerchiamo di ragionare, abbiamo sempre il trace a disposizione, quindi compiliamo il buffer e lanciamo il solito goal. Vediamo cosa succede, ci chiediamo se A è sopra C e per prima cosa si andrà a vedere se AC fallisce, quindi unificherà con la seconda. Andrà a vedere se AC fallisce, quindi unificherà con la prima e si va a vedere se c'è un blocco B1 sopra C. C è B, quindi a questo punto abbiamo che questo B1 è A, B2 è C e B è B piccolo. Si va a vedere se A è sub B piccolo, sì, quindi viene restituita la risposta true. Apparentemente nulla è cambiato, però questa idea di anticipare la chiamata ricorsiva all'interno della clausola ricorsiva non è una bella idea. Poi vedremo nelle successive unità di dati che riguardano il prologue che non è una bella idea anche perché gli interpreti prologue sono ottimizzati e quando trovano una chiamata ricorsiva come ultimo ed unica chiamata ricorsiva all'interno della clausola come ultima trasformano la ricorsione in una iterazione e quindi guadagnando molto in termini sia di occupazione di memoria, cioè non viene occupato lo stack che di tempo. Quindi per motivi interni al prologue fare questo non è una gran cosa dal punto di vista procedurale, anzi è sostanzialmente sconsigliabile. Però sembrerebbe che nulla è cambiato, cercherà la possibilità di poter arrivare a dimostrare la clausola vota. Se però adesso, oltre che cambiare l'ordine dei gol dentro la clausola, cambiamo anche l'ordine delle clausole e quindi cambiamo anche proprio la procedura di rifiutazione, quindi sostanzialmente sempre una depth first, questo per forza dobbiamo fare una depth first, non possiamo non fare una depth first perché l'interpreprologue utilizzerà sempre un ordine definito all'interno del file, però cambiamo l'ordine, andiamo a ricompilare il tutto, lanciamo il solito gol e vediamo cosa succede. Lanciamo il solito gol e questa volta viene subito unificato con la prima clausola ovviamente che è quella che contiene la ricorsione. B1 è A e B2 è C e quindi si lancia subito la ricorsione alla ricerca di un blocco B che stia su C e sopra C. e quindi questo unifica con la prima clausola e quindi si rilancia se stesso come gol sostanzialmente, che riunifica con la prima clausola che rilancia se stesso, che riunifica con la prima clausola che rilancia se stesso e così via all'infinito. Quindi a questo punto si genera una ricorsione infinita che se adesso lasciassimo evolvere il tutto fino alla fine, provocherebbe una violazione dello stack, cioè lo stack crescerebbe, cresce tanto e c'è un errore di stack overflow.